Ho scoperto informazioni segrete su un'operazione clandestina condotta dal generale Shepard ed eseguita da Shadow Company. Vendevano missili balistici americani ai nostri alleati che combattevano contro i russi nel Medio Oriente. La passione non andò come questo. Che trasportiamo, Graves? Se te lo dico poi devo ucciderti. Sarebbe capace di farlo. È un lavoro di routine, ragazzi. Armi per i buoni. Tornerete alla base in tempo per la colazione. Comportatevi bene, ci saranno bonus per tutti. Venite da me al ritorno. Agli ordini, bene. Shepard attende un rapporto. Non fatelo aspettare. Chiudo. Tre container. Cazzo, è un sacco di roba. Altro che routine. Shadow 2 a capo Gold Eagle. Vi rascolto, 2. Tre Shadow in uscita dall'autostrada 7 Zulu. Tutto tranquillo, capo. Ricevuto. Consegnate quel carico in tempo. Non fallite. Eagle, chiudo. Non fallite? Lo dicevo che era una cosa importante. Che succede? Tre qui, Erickson. Che c'è? C'è un veicolo in strada. Un attimo, arrivo. Graves, qui, Vance. Abbiamo un problema, ce ne stiamo occupando. Risolvete, non possiamo fermarci. Ricevuto. Secondo i ricognitori, sul percorso non c'era attività nemica. I rapporti si sbagliavano. Nel carico è stato avvistato prima dell'arrivo a destinazione. Yama, Yama, dovete muovervi. Signore, deve muoversi. Non mi piace. Il suo arabo è atroce. Di Paolo, sporgiti e coprilo. Vado. C'è sempre un interprete. Signore, che si fa? Vance, Di Paolo, dategli una mano. Ma che cazzo! Sono attento! E uno è attento! Sono fuori Di Paolo! Che cazzo sono quelli? Non è che dà! Sono che è qui dietro! A tutti, truppe sotto attacco. Intensi fuoco nemico. Abbiamo vittime. Contatto, dietro! Guarda capo Gold Eagle. Non perdete quel carico. In alto, occhio a quegli edifici! Soltetto! RPG! Soltetto! 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 Ma che cazzo sono? Graves, servono rinforzi! Graves, servono rinforzi! Graves, i miei non reggeranno. Serve supporto aereo! Non possiamo farlo, Graves. Lo sai, vedi? Cazzo! State tu! Unità Shadow, rapporto. A chiunque sia in l'ascosto. A chiunque sia in l'ascosto. Qui capo Shadow. Situazione? Cazzo. Erikson, sono Graves. A tua posizioni? Graves, non mi ha detto, grazie a me. Ben! Di Paolo, lì, siete? Graves! Il generale serve un mezzo di ricognizione a cui niente non ha dei guai. Voglio che la situazione non trapevi. Questa operazione non sarà ufficializzata. Graves! Il generale, i mercenari russi hanno attaccato a me. Hanno preso la rata! I russi hanno giustiziato l'intera squadra e spiato le comunicazioni della sciarra. Sapevano di Shepard. La Russia ha dato i missili ad Hassan. Shepard aveva buone intenzioni. I carichi erano illegali e clandestini. Hanno mentito. Lui è Graves. Nascondere il crimine è peggio che commetterlo. Ci stavamo avvicinando troppo e non potevano permettercelo. Furono rubati tre missili. Ne abbiamo trovati solo due. Hassan ne ha un altro. Dobbiamo trovarlo. Dobbiamo trovarlo.